La domenica italiana, c'è qualcuno che mi ama Buongiorno amici dello zoccolo duro, oggi sono relax Ormai mi sono preso, sto preso di relax senza campionato Non faccio neanche i video dalla macchina, li faccio proprio dal parco Senti, con gli uccellini, uccellini Così fanno gli uccellini A volte fanno così, quando sentono qualcuno dello zoccolo duro Cambiano anche il cinguettio, gli uccellini Allora parliamo della nazionale Facciamo allora, ultimo video sponsorizzazione per Roberto Palermo Vi lascio il link in descrizione, andate a salutare il mio amico Enjoy Ultimo video sponsorizzazione Parliamo della nazionale Come sapete, voglio chiarire sta cosa Come sapete, non sono contentissimo di sta pausa nazionale Mi annoia abbastanza Se ieri ho visto la partita, perché comunque c'era quella Non è che potevi vedere nient'altro, se mi guardavo c'è posta per te Quindi mi sono visto la partita In realtà ero anche a cena con amici Quindi l'ho vista, l'intravista Poi mi sono rivisto più che altro dopo Bene bene gli spezzoni Il problema della nazionale Non è la qualità Perché quella nazionale di oggi Piena tra giovani C'è un mix Secondo me Mancini sta facendo bene Perché ha messo qualcuno un po' più esperto Come i vari Bonucci, Chiellini, eccetera Però tanti tanti giovani di qualità C'è la fortuna che abbiamo giovani di qualità Che stanno giocando Un po' l'obbligo, avendo pochi soldi Di far giocare i giovani Un po' forse fortunati, non lo so Abbiamo dei giovani promettenti Quindi siccome gli europei saranno nel 2020 I mondiali saranno nel 2022 Cioè c'è tempo per farli crescere In maniera ad arrivare a queste competizioni Nella maniera ideale Quindi è anche bella da vedere la nazionale Il problema di questa nazionale Durante la settimana così a caso Secondo me è un po' il timing Cioè dovrebbero fare e lo faranno Tutte insieme le partite nazionale A meno uno il segue, segue solo quelle E almeno c'è una motivazione Cioè se arriva ad un obiettivo Invece adesso giochi adesso Poi giocano mercoledì, martedì Non so nemmeno quando giocano E poi giocano tra tre mesi, tra due mesi Cioè non va bene, non va bene Comunque per quanto riguarda la partita di ieri Hanno fatto benissimo Io voglio mettere un piccolo freno Su questo Moisekin Moiseken, Moisekin Chiamatelo come vi pare Dove tutti lo stanno dando per super fenomeno Di qua di là Ottimo giocatore Sta facendo molto bene Mi ricordo però anche l'anno scorso a Verona 19 presenze e 4 gol Quindi sicuramente ha avuto una grandissima crescita Alla Juve Perché poi alla Juve ti fanno crescere Sia fisicamente sia proprio come giocatore Quindi sicuramente è un altro giocatore Rispetto a quello del Verona Però da non essere nessuno A essere un super fenomeno Lasciamolo crescere Non mi sembra uno che pecchi di personalità Non mi sembra uno che pecchi di personalità Però lasciamolo tranquillo Lasciamolo crescere Potrà essere un bene Per la Nazionale Ma non c'è solo lui Abbiamo Bernadeschi Barella Zagnolo che ieri ha giocato poco Questo Piccini Anche ieri Mi ha sorpreso Perché comunque è già È già più forte di D'Ambrosio Calabria E tutta quell'altra gentaglia Che abbiamo noi De Sciglio Eccetera È già meglio Infatti ha fatto bene Roberto Mancini A farlo giocare Così così Ciro è immobile Così così Anche se ha fatto l'assess Quindi comunque decisivo È fine del risultato E anche se ha fatto l'assess L'ho visto un po' nervoso Non so che Si deve avere qualcosa Che non va Ceruzzo Ceruzzo mio Deve avere qualcosa Che non va Perché l'ho visto Un po' nervosetto Un po' nervosetto Va bene ragazzi Per oggi video breve Perché tanto non è che Sono grandi cose da dire E ci vediamo Come sempre Alla prossima Alla prossima Ciao belli Oh Mettete like Che dobbiamo fare Diverso algoritmo Che vi ho preso pure La location proprio Eh ci siamo capiti Ciao